Terza vittoria consecutiva per l'Amen Scuola Baschettarezzo che al Palasporta Estra batte la seconda della classe Manitti-Castelfiorentino, 87-72. Una prestazione molto convincente per il quintetto Aretino che ha condotto praticamente per tutto l'arco dei 40 minuti ed è riuscito anche a ribaltare la differenza canestri con gli avversari. Partono subito forte gli Amaranto con Rodriguez che piazza due triple che valgono il primo allungo dell'Amen. Dopo 5 minuti il punteggio è 14-6 per il quintetto di Coach Millie che poi ha mantenuto il vantaggio fino alla prima sirena. La reazione di Castelfiorentino non tarda ad arrivare guidata da Belli che segna 10 punti nel secondo quarto. La formazione ospite si riporta sotto e all'intervallo in scia 41-39. In questo momento della partita sono stati preziosissimi i minuti in campo dei giovani Ghini e Calzini capaci di mettere a riferto 5 punti entrambi. A rientro in campo dall'intervallo gli ospiti provano comunque a ribaltare l'inerzia della gara trovando il primo vantaggio sul 46-45. Pucci e Terrosi sono determinati in attacco ma l'Amen ha il merito di non abbattersi. Tenev è la guida offensiva degli Aretini che riescono a mettere di misura la testa avanti alla terza sirena 61-58. Nell'ultimo quarto De Bartolo diventa immarcabile per la difesa fiorentina. Il numero 9 Amaranto segna in tutti i modi e le sue triple infiammano. Il Palasport Estra un 12-0 dell'Amen incannata la gara a favore degli Amaranto che anche questa volta gestiscono con determinazione i punti di vantaggio acquisiti. Negli ultimi istanti Coacebetti prova a salvare almeno la differenza Canestri ma nonostante qualche errore ai liberi l'Amen tiene bene l'imbalzo sui tiri sbagliati degli avversari portando a casa due punti preziosissimi con il punteggio di 87-72. Una vittoria che allunga 3 la striscia vincente della Sba che aggancia in questo modo Prato a quota 16 punti. Sabato prossimo gli Amaranto affronteranno la trasferta di Valdisievi diretta concorrente degli Aretini nella parte centrale della classifica palla 2 alla palestra Balducci di Pontasieve alle 18.30. È ritornato finalmente il sorriso su Max Milli. Il sorriso non soltanto per il risultato, per la vittoria. Devo ridere per forza. Il sorriso perché abbiamo ritrovato una squadra formidabile. Stasera abbiamo fatto una buona prestazione. Una buona prestazione di squadra dove tutti hanno risposto presente. Alcune volte non può capitare sempre così che tutti giocano sempre bene, però stasera è capitato. Abbiamo fatto una delle nostre migliori partite del girone di ritorno. Sono veramente contento dei ragazzi. Ci hanno messo, oltre a tecnica e a tattica, ci hanno messo veramente grande cuore. Dal primo all'ultimo. Mi sono garbati anche dal punto di vista comportamentale, non reagendo minimamente ad alcuna provocazione. Siamo stati bravi, nonostante delle situazioni di chiamate arbitrali, limiti, alcune fiscate non si sono capite. Però almeno il metro è stato coerente. Sono stati fischiati dei falli perché la partita si stava comunque innervosendo. Gli arbitri alla fine hanno mantenuto lo stesso metro da tutte e due le parti. Quindi alla fine va bene così.